Sindaco, lei purtroppo ormai, possiamo dirlo, ha perso il conto dei pedoni travolti e purtroppo oggi, come nel caso del signor Gabriele Di Giusia morti su questa statale 150. Sinceramente sono stufo di questa situazione, questa mattina proprio un incidente mortale, ma non solo questo, spesse volte incidenti anche non mortali, però è un continuo, è un continuo, quindi bisogna mettere un punto, bisogna trovare delle soluzioni importanti affinché questa statale 150 sia più sicura. Secondo lei è stata un po' abbandonata a livello di controlli, perché prima vedevamo più spesso pattuglie della polizia stradale, ma non solo circolare sulla statale 150. Allora io adesso non voglio addossare a nessuno, sicuramente noi come amministrazione siamo un po' attenti a queste cose, soprattutto con le strisce ben evidenti, di fatti qui possiamo constatare delle strisce ben evidenti, però non bastano le strisce, non bastano neanche i marciapiedi, bisogna veramente trovare delle soluzioni diverse affinché in un centro abitato si entra con una velocità moderata. La dinamica adesso non la conosco, sarà stata sicuramente... Perché certo Gabriele Di Giosia da quello che abbiamo appurato attraversava regolarmente, come bisogna fare le strisce pedonali? Forse un po' più di prudenza? Il signor Gabriele è una persona anziana che si faceva la sua passeggiata mattutina e anche pomeridiana, quindi una persona che sfruttava le strade secondarie, come la zona industriale, sfruttava via salaria, purtroppo questo attraversamento gli è stato fatale, questo sinceramente mi dispiace, sono vicino alla famiglia, perché conosco la famiglia e ho veramente un rapporto importante, quindi sono veramente oggi triste, una giornata triste, triste.